C'era un giorno, due gemelle, una si chiamava Core e l'altra Marilu. C'era un giorno, due gemelle, una si chiamava Core e l'altra Marilu. Un giorno vogliono andare in questa scuola che si chiama Collegio e allora provano a entrarci. Il pressi ne dice che possono, allora entrano. Quando c'è la pubblicità, prima di entrare alla pubblicità, Cora urla. 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 Sì, io faccio la scelta per la seconda volta, eh Questo è un brainstorming, eh Questo è la pasta world Questo è anche un cornastaut, eh Questo è un cornastaut, eh Questo è anche un cornastaut, eh Questo è un cornastaut, eh Questo è anche un cornastaut, eh Questo è un cornastaut, eh Eh, cittore, affubichalo Eh Cittore Questo è ancora un brainstorming Grazie a tutti Grazie a tutti